Pinuccia della Giovanna è diventata una grande protagonista di Uomini e Donne. La dama di Vigevano si rende spesso protagonista di accesi litigi con Tina Cipollari e il suo forte interesse nei confronti di Alessandro Rausa genera non poche polemiche. In una nuova intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Pinuccia torna a parlare del cavaliere e di cosa desidera da lui al momento. Innanzitutto ci tiene a precisare che tra loro dei baci ci sono stati. Anche in studio. Al contrario di ciò che lui ha raccontato nella sua intervista. Proprio qualche giorno fa. Maria si è lasciata andare a una sfuriata contro Pinuccia per difendere Alessandro. Ma la dama di Vigevano non si ferma e continua a sognare un futuro a fianco a lui. Ammette di essersi affezionata a Rausa. Perché è un uomo tanto gentile ed elegante, un po' come suo marito. Non le dispiace affatto che Rausa non voglia qualcosa in più di un'amicizia da lei. In realtà no. A me basta che lui mi telefoni e mi chieda di passare una giornata insieme. Magari di fare una bella cena. Io non cerco un marito in trasmissione e neanche qualcuno con cui convivere. Sono già stata sposata per 53 anni con un uomo bellissimo. A me va bene essere solo sua amica. Purché non mi faccia arrabbiare e non mi prenda in giro. Ogni tanto mi fa dispiacere. Pinuccia di uomini e donne ricorda ancora quando suo marito la mise alla prova per capire se fosse davvero sincera. Non è mai dipesa da lui. Anzi ha sempre lavorato ed è stata una donna indipendente. Anche quando sono nati i suoi figli. Ho lottato per crearmi una famiglia. Mantenere il mio lavoro ed educare i miei figli. Mi spiace che in amore siano sempre stati sfortunati. La dama di Vigevano racconta che suo figlio Giorgio vive a casa con lei perché, ha avuto una grossa delusione in amore. Sua figlia. Invece. Secondo quanto rivela Pinuccia. È stata lasciata con due figlie per un'altra donna. Della Giovanna crede che, quando manca un padre nella famiglia manca tutto. E a proposito di figli, Giorgio ha rilasciato di recente un'intervista su Uomini e Donne Magazine.